Tutti ragazzi, tutti sono rimasti sconvolti per questa uscita di Edoardo Donnamaria, per questa dura decisione che c'è stata nei suoi confronti, se per caso non è stata dura scrivete qui sotto nei commenti per quale motivo non è stata dura, ma così è stato. Questa è la squalifica da parte del grande fratello a nome di Alfonso Signorini per Edoardo Donnamaria, che è stata ritenuta tra l'altro inevitabile dalla produzione alla luce degli ultimi comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi e dopo ore di grande silenzio in maniera incredibile ha deciso di collegarsi in diretta a RTL 125, la radio per capirci bene, dove lavora l'ex compagno del reality Charlie Gnocchi, sappiamo no? Charlie Gnocchi, Gene Gnocchi, c'è una certa concomitanza e ha detto cose molto importanti a riguardo. Intanto, dopo che il GF VIP7 ha punito Edoardo Donnamaria con la squalifica, il pubblico è convinto che a rischiare grosso sia adesso Daniele Dal Moro. Edoardo Tavassi anche dovrà fare molta attenzione, essendo stato ammonito, ma l'ex uomini e donne potrebbe essere estromesso dal programma per la furiosa lite avuta con Oriana Marzoli, subito dopo la fine della puntata. Ma tornando al volto di forum, vediamo insieme cosa ha affermato anche a proposito della sua fidanzata. Dunque, nella mattinata di venerdì 10 marzo, l'ex GF VIP7 Edoardo Donnamaria ha svelato di pensare moltissimo ad Antonella, che dovrà proseguire senza di lui l'avventura nel programma di Canale 5, mi sento frastornato, ho dormito tre ore e avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l'ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane e ieri sera sono stato con i miei genitori. Ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello. Poi ha confessato di sentire moltissimo la mancanza della Vipona. Infatti a RTL 102.5 si è lasciato sfuggire parole molto importanti oltre ad alcune, ironiche in riferimento a Charlie Gnocchi, sono invitati tutti al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi. Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa, rivedere Antonella. Sento troppo la tua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro, mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto col megafono e vederla piangere. Quando sono andato via, mi ha fatto stare male. E su Twitter gli utenti hanno commentato così il video di RTL 102.5. Ci manchi da morire Edo, la sua nellina. Ci manchi così tanto Edo. Ovvio, devono mantenere la ship fuori. Altrimenti chi se li filerebbe? Possiamo far finta di stare bene, ma ci manchi tanto!